Quando mi ha preso la mano e mi ha tirato giù ho capito che non stava scherzando e volevo quasi dirgli tipo ma cosa fai che sto soffocando anch'io ma non avevo il tempo né di urlare né di prendere fiato per parlare a lui perché proprio ero metà del tempo sia sott'acqua che sopra quindi il tempo di parlare non c'era. Hai avuto paura di morire? Sì abbastanza un po' sì in realtà avrei resistito ancora per poco. Secondo i preziosi e infiniti quelli che Giulia oggi racconta con il sorriso dei suoi 14 anni dopo i fatti che l'hanno vista protagonista Sabato Jesolo quando con coraggio e intuizione si è tuffata per salvare un amico che stava negando in mare Giulia con Favur sedicenne di Vazzola si trovava con altri otto ragazzi su due pedalò a cento metri dalla spiaggia nelle vicinanze della torretta 11. Fortunatamente ci hanno visto subito questa diciamo è stata una nostra fortuna perché se non l'avessero fatto i nostri amici penso che ci avrebbero impiegato un po' sia ad arrivare che a capire e quindi fortunatamente i bagnini sono stati molto bravi infatti li hanno ringraziati perché se no penso che non saremmo qua né io né lui. Quanto a Favur Giulia lo sta sentendo anche in queste ore il ragazzo si sta rimettendo e a chi la definisce un'eroina risponde così. In realtà io non mi sento molto così sinceramente perché appena usciti dal pedalò mi fanno magari tu ti rendi conto che gli hai salvato la vita ma io non me ne rendo ancora conto adesso che sono passati due giorni. Cioè per me nel senso io gli ho preso la mano e poi il resto gli hanno fatto i bagnini riportandolo via. Ho fatto prendere aria sì però non ho fatto nulla di che. Nel pomeriggio il sindaco di San Polo di Piave le ha portato i saluti dell'amministrazione ma anche del collega di Vazzola. Presto ci sarà una cerimonia c'è l'orgoglio di due comunità ma non solo. Ritengo che questa possa essere una storia da poter raccontare ai giovani per fargli capire com'è importante in certe situazioni saper reagire e poter reagire davvero con un spirito altruista e di aiuto. Io vorrei che diciamo sempre per la mia esperienza si portasse molta attenzione anche ai piccoli dettagli e non prendere sempre come tutto uno scherzo perché ci si può rimettere anche la vita perciò portare sempre attenzione. Spero che qualcuno abbia imparato da quello che ho subito io e il mio amico.